evento congelato dopo la paglia comincia la folla che sfila davanti alle cose consuma i tappeti per due settimane la fiera si snoda come un popolo di bottiglie scaffali vernici computer lentezze supplì fervore domande invenzioni nell'ora dei pasti la fiera trasale e precipita ascolta e assopisce formidabile e ferma nell'ombra è un'esperienza sparsa nelle bocche di tutti come un vestito che non ha cuciture che se l'oggi e il domani se lo giocassero a dispari e pari sarebbe diviso soltanto dall'oggi al centro dei due chilometri quadri nei quali la fiera passa e si slancia ci sono due bovi di bronzo che muovono un passo ogni anno che passa poi la fiera si chiude e si straccia la paglia per imbottire le casse commento la fiera è un evento congelato nell'eterno presente che si attiva ogni volta che viene vissuto allora Grazie a tutti